Sono stato uno sciocco. È che davvero non sapevo come dirtelo. Carissima Ellen, sono sposato e ho una famiglia. Non era complicato. Incontri casuali, ovoluti dal destino. Donne sicure e ragazze a un bivio. Legami contrastati e amori da sogno. Sono le storie più belle firmate in gallistro. E perché si trova in casa mia? Quindi lei è il barbaro che vuole disfarsi degli arrevi? Come prego? Scelta d'amore. Lunedì in prima serata. Sulla 5.